Riemergono dal terreno dopo la neve e le piogge d'autunno ed inverno, come spettri del periodo in cui qualunque rifiuto poteva essere buttato in una discarica anche privata. Sono sacchi neri, pieni di immondizia, fra bottiglie, flaconi di chissà che sostanza, bidoni, contenitori, persino trappole per topi, materiali inerti. È l'inquinamento più violento perché nessuno sa quali sostanze ci siano nel sottosuolo. Si vede in riva al serio l'area da cui, fino a due anni fa, esalavano vapori che inquietavano i passanti. Poi è stata coperta. Erano gli anni 80 e ancora non esisteva nemmeno il parco del serio, quando un privato, secondo le norme di allora, iniziava a riempire una discarica di sua proprietà, poi chiusa e mai bonificata. Una montagnola sulle rive del fiume serio, confinante con le coltivazioni agricole. Nel 2013 i carabinieri del Noe hanno visitato il sito e l'hanno sequestrato per togliere delle lastre d'amianto e poi hanno tolto il sequestro. La competenza è della provincia e della regione. Il sindaco Gianluigi Bernardi, come ha fatto sapere stamattina, sta preparando un documento per invitare il settore ambiente della regione a intervenire dopo una mozione presentata in consiglio comunale. Deve essere il pirellone a prendere l'iniziativa, ma c'è un lato ancora più inquietante, oltre a quella massa di rifiuti che come una spugna cola liquidi carichi di chissà quali elementi. Ed è che la discarica, benché privata, è stata censita in uno dei documenti che accompagnano il piano provinciale dei rifiuti. Dunque la discarica potrebbe, per ipotesi, diventare pubblica e la bonifica essere fatta a spese dei contribuenti. Il consigliere comunale Enrico Duranti di Serniano lo fa notare con una certa preoccupazione. Una vicenda molto italiana, rifiuti privati e pubbliche bonifiche. Da un censimento, che in sé vale come una registrazione, chissà che cosa potrebbe risultare. È l'estremo timore in attesa che la regione finalmente si decida e dia il via a una definitiva soluzione.